Ciao! Ti piacerebbe partecipare ad un workshop di yoga facciale dove interagiamo tra di noi e dove io possa correggerti, vederti come svolge gli esercizi? Sto organizzando un workshop sulla piattaforma Zoom dove ti insegnerò sette esercizi fondamentali di yoga facciale, ma scoprirai anche che sul viso non ci sono solo muscoli e la pelle, ma riflettono anche gli organi interni. Come data puoi scegliere o domenica mattina 6 giugno dalle 9 e 30 alle 12 e 30 oppure mercoledì sera 9 giugno dalle ore 20 e 30 fino alle ore 23 e 30. Per avere maggiori informazioni e per iscriverti clicca il link qui sotto e ricordati non è mai troppo tardi per iniziare a prenderti cura e allenare il tuo viso. Ah se non mi conosci io sono Petra, istruttrice di yoga facciale e fondatrice del programma Viso in Forma. Ti aspetto al workshop!